Pace a voi fratelli e sorelle, pace a voi da questo luogo particolarissimo, la tomba di San Francesco, qui sotto la basilica di San Francesco in Assisi. La tomba è un luogo molto piccolo, anche la cappella in cui siamo, ma sorregge qualcosa di enorme, la basilica che è strutturata su due piani addirittura. È molto piccolo, come Francesco è molto piccolo. Abbiamo avuto la gioia noi frati qualche anno fa di poter vedere le spoglie di Francesco. È stata aperta la tomba, che è qui, proprio sopra di me, è stata aperta e si è potuto vedere quanto era piccolo e semplice Francesco. Le sue ossa occupano uno spazio molto piccolo e Francesco riteneva se stesso piccolo e vile. La sua umiltà lo portava proprio a ritenersi cosa da niente. Era piccolo ed è piccolo anche da vedere Francesco. Ci veniva questa impressione. Francesco ci ricordava proprio questa piccolezza. E in questa ammunizione dodicesima lui parla proprio di coloro che si ritengono vili ai propri occhi e si stimano più piccoli di tutti gli altri uomini. Beh, Francesco era così. E invita tutti ad essere così. Perché attraverso di questo si può scoprire se quest'uomo ha lo Spirito del Signore. È proprio misurando la carne che noi riconosciamo se l'uomo ha lo Spirito, ha in sé lo Spirito del Signore. Misurando la carne, cosa vuol dire? Francesco dice la sua carne non si inorgoglisce se lui fa qualcosa di buono, ma attribuisce a Dio tutta questa bontà. Quante cose buone noi possiamo fare ogni giorno? Ecco, se siamo capaci di non riconoscerle come cosa nostra, ma le attribuiamo al Signore, ma riconosciamo che è Lui che opera attraverso di noi. Non ci appropriamo di ciò che è il bene che noi compiamo, altrimenti saremo uomini di carne. Cioè, direbbe Francesco, la nostra carne si inorgoglisce. Non siamo uomini spirituali, uomini e donne dello Spirito, animati dallo Spirito del Signore. In questo modo, invece, se attribuiamo tutto a Lui, ecco che si riconosce attraverso di noi la presenza dello Spirito, quello Spirito che ci anima. Potremmo fare mille cose buone, ma se le attribuiamo a noi stessi, ecco, che non funziona. Non saranno cose davvero buone, non saranno opere, pensieri, non saranno atteggiamenti buoni, perché riveleranno invece uno Spirito di carne. Ecco, fratelli e sorelle, il mio augurio da parte nostra, da parte mia e da parte di tutta la comunità del Sacro Convento è che davvero siamo uomini e donne spirituali, pieni dello Spirito di Dio e quindi capaci di non agire da noi stessi, ma riconoscenti a Dio per ciò che possiamo compiere di buono. Grazie.